Noi vogliamo attraverso queste forme di intervento non devastanti ma particolarmente incisive segnare quasi una strada perché dei lavori per la sicurezza dei cittadini che non sono finora stati fatti vengano fatti. E' questo il segnale che noi vogliamo dare. Noi non vogliamo colpire nessuno, non vogliamo perseguitare nessuno e abbiamo avuto grande attenzione soprattutto per i proprietari e gli abitanti di queste ville e dobbiamo però incalzare l'amministrazione, questa amministrazione e anche altre amministrazioni perché purtroppo queste realtà non sono isolate perché si faccia di più per la tutela del suolo, per la sicurezza dei cittadini, per evitare che tragedie che purtroppo questa terra ha già vissuto possano ripetersi. Sono state costruite secondo il piano regionale idrogeologico in una zona R4 ovvero a vincolo assoluto di inedificabilità le 84 villette sequestrate preventivamente questa mattina dai carabinieri del comando provinciale del gruppo carabinieri forestale di Crotone unitamente alla polizia locale di Crotone in località Margherita a ridosso del canale di Scolo 19. L'ingegnere De Martino ricopriva l'incarico di responsabile come dirigente dei lavori pubblici quindi delle opere che si sarebbero dovute fare in quell'area e che non si sono fatte ma neanche si sono pensate pur sapendo che in quell'area c'è il rischio di inondazione, pur sapendo che i suoi predecessori avevano rilasciato concessioni edilizie nonostante questo non c'è uno straccio di progetto e questa è la contestazione che si fa, cioè di aver mantenuto una inerzia su un problema notissimo, non un problema nascosto, non un problema che nessuno conosceva ma un problema assolutamente palese, notissimo a livello regionale e a livello locale per le stesse carte esistenti nei fascicoli. Tutto ciò accadeva negli anni tra il 2006 e il 2008, i reati sono tutti prescritti, pertanto la procura ha ipotizzato il reato ambientale.